Le assenze di due consiglieri di Sanremo, Biancheri e Ventimiglia, assolutamente casuali. Sul punto nascite facciamo parlare ai tecnici. Noi, nell'attesa dell'ospedale unico, che è tremendamente in ritardo, e ci sono delle responsabilità su questi ritardi, noi chiediamo che la Regione acceleri il percorso del nuovo ospedale e nell'attesa del nuovo ospedale ci sia la valutazione di decidere che i due ospedali, Imperio e Sanremo, debbano essere un ospedale unico, come se fossero due padiglioni. Allora sediamoci attorno a un tavolo e i tecnici ci indichino come si può far meglio funzionare questo servizio. Ma non si può dividerlo solamente sul punto nascite, sono diversi gli aspetti che devono essere sistemati. C'è la cardiologia che è in grande sofferenza, c'è la chirurgia vascolare, c'è la medicina. Sono tanti i settori che sono in grande difficoltà e bisogna che ci sia una proposta di buon senso, equilibrata. Ma no i campanilismi, no i campanilismi.